E anche la cultura attraverso la musica e gli spettacoli può essere un volano molto importante per far ripartire l'economia di un territorio, oltre che essere un'importante fonte di beneficenza. La cultura come volano di sviluppo economico per il territorio è strumento di solidarietà. La dodicesima edizione del Festival Internazionale di Musica di Cerreto Guidi, organizzato con il sostegno di Banca Cambiano, contribuirà infatti a raccogliere fondi per il servizio di cure palliative da parte della Fondazione Italiana di Leniterapia, con l'obiettivo di renderlo sempre più ampio sul territorio empolese. Due le serate estive in programma nel cartellone, venerdì 7 luglio con la traviata di Giuseppe Verdi eseguita dall'orchestra lirico-sinfonica del Teatro dell'Opera di Volterra e l'evento Follia di Vittorio Sgarbi. Direi che cultura e solidarietà sono stati due elementi fondanti nella nostra storia quale banca di credito cooperativo, che erano lo spirito della banca, e che al momento del nostro passaggio a società per azioni, coerentemente con la riforma del credito cooperativo, abbiamo naturalmente mantenuto come elementi di valore profondo della nostra banca.